8 euro per una bottiglia d'acqua Ciao! In questo periodo tutti parlano dell'acqua di un influencer quindi mi piace l'idea di dire la mia ovviamente non parlo del testimonial perché testimonial potrebbero dire che la bomba atomica è come la manna dal cielo in cambio ovviamente di soldi che gli servono per mantenere il loro status di pastori di pecore sodomite quindi parlerò degli unici responsabili ovvero dei celebrolesi che seguono questa influencer ho letto quante pecore sodomite ha questo pastore che alleva nei suoi prati virtuali denominati Instagram, Facebook, eccetera un pastore sa che ogni pecora deve bere ed ecco la genialata non solo dargli da bere ma farsi pagare dalle pecore per bere un'acqua con cui io non mi cifrei nemmeno il bidet ho visto l'analisi chimico-fisica di quest'acqua che non voglio nemmeno nominare in tutte le analisi comparative non la si trova mai ai primi posti perché ha una qualità così pessima che come potrebbe starci? però sono bravi nel marketing infatti hanno trovato il pastore che ha portato i sogreci di pecore sodomite ad abbeverarsi una bottiglia d'acqua può costare 0,03 centesimi di euro al litro e ho già esagerato riuscire a venderla ad un prezzo che è 267 volte maggiore non è da tutti certamente quest'acqua non è la più costosa ho già fatto un video sulle bottiglie d'acqua per ricchi decerebrati che vista la bassa autostima devono apparire non potendo essere ma la cosa che mi fa pensare è la stupidità degli inseguitori che non comprendono la bellezza nel tracciare la propria strada perché l'adagio migliore della saggezza popolare è meglio soli che male accompagnati e quelli che seguono non sono nemmeno accompagnati sono in mezzo ad altri che non sanno dove vanno ma seguono la scia un po' come le abebe che non avendo la capacità di muoversi aspettano la gravità per cadere più in basso è inutile dire che noi ci occupiamo della costruzione di impianti di purificazione d'acqua e di sanificazione ambientale perché se sei una pecora non scegliere mai la libertà fare sempre solo ciò che ti dice il tuo pastore in caso contrario sei in grado di scegliere e decidere non c'è bisogno che io ti dico cosa fare sai già da solo cosa scegliere ciao e al prossimo video